premiazione 50 stile libero ragazze terza e bronzo emma scomparin team veneto seconda e argento anna porcari team veneto e primo posto medaglia d'oro padova nuoto 26 85 sofia ostellari per la quinta serie sono la partenza giulio gambarotto in uno maurizio ventuzoluzzo alla due alessandro menta in tre nicolo solmi alla quattro mattia tirelli in cinque francesco salvalaggio alla sei marco tonietto in sette daniel nicola e dorobantu corsia numero otto premiazione 50 stile assolute terza e bronzo viola magoga idros seconda e argento alessandro miari fulcis team veneto e prima medaglia d'oro team veneto 25 41 aglaia pezzato 1 14 69 la tempo di leonardo paccaniella che si aggiudica questa serie su nicolò 5 grani siamo alla via con la serie numero 5 16